Ciao Elisabetta, ciao Jessica, sono felice oggi di essere con Elisabetta Ternullo che è una poetessa Augustana, ha scritto unissimo libro 37 passi dentro, è anche ormai una notissima presentatrice perché insieme a Mauro Italia rappresenta ogni sabato a faccia d'affaro e poi sarà una compagna di avventure questa sera durante la presentazione di un libro. Ci avventureremo, no? Dentro le parole, insomma dentro le pagine di questo libro, Cosa vuoi fare da grande? Di Ivan Baio e Angelo Orlando Meloni. Quindi sarà divertente questa sera. Saremo compagne di viaggio di questo libro un po' a tratti esilarante. Io ho avuto modo, noi abbiamo avuto modo di leggerlo, no? In questi giorni e io a tratti scoppio a ridere come niente fosse. Sì, confermo perché è veramente un libro comico ma anche, possiamo dire, veramente tragicomico. Esatto. Tratta argomenti tragici in una versione completamente comica. Divertente, cioè ridico le lacrime ma poi le lacrime rimangono a mare. Rimangono a mare. Quindi invitiamo tutti a partecipare. E certo, è certo che sì. Insomma, teneteci compagnia in questa in questa bella avventura. Avremmo presente uno degli autori Angelo, Angelo Meloni, che leggerà qualche pagina, insomma ci delizierà delle delle sue stesse parole. E scopriremo anche come si fa a scrivere un libro a quattro mani, perché probabilmente non è un'impresa molto semplice. Va bene. Quindi a stasera. Alleventi, al faro. Non mancate. E subito dopo faccia da faro. Faccia da faro. Ciao.